Il Paradiso, anticipazioni al 15.03, Matilde avanza una proposta importante a Vittorio. Imperterrita la presenza di Marta nella vita di Conti, Matilde gli propone una proposta inaspettata e inizialmente tenuta segreta. Le anticipazioni per il Paradisi delle donne, dall'11 al 15 marzo 2024, mostrano Matilde fare un'importante proposta al compagno Vittorio Conti, ma non ci sono ulteriori dettagli. Non aveva mai rivelato la verità prima sul suo nuovo lavoro ai grandi magazzini Conti, quindi ha dovuto mentire per evitare di ferirla. Rosa intanto deve fare i conti con l'arrivo a Milano della madre Vanda. Matilde fa una proposta importante a Vittorio, anteprima dell'Eddie's Paradise del 15 marzo Matilde diventa gelosa della relazione riemersa tra Vittorio e la sua ex, Marta Guarnieri. I sentimenti tra i due sono innegabili e Frigerio non riuscirà a nascondere la sua gelosia nei confronti della figlia del cavaliere commendatore. Ma allo stesso tempo Matilde sarà convinta dei suoi sentimenti per Conti e cercherà di portare il suo rapporto con lui un passo avanti. Pertanto, la donna alla fine propone il matrimonio e promette che è importante per il suo partner, ma al momento la trama non contiene dettagli al riguardo. Sarà la reazione di Vittorio. Rosa sta per arrivare a Milano con la madre del resto, dall'anteprima della prossima puntata della telenovela. In programma fino al 15 marzo, risulta che Rosa starà aspettando l'arrivo della madre a Milano. Vanda entra in città e finisce per provocare un vero e proprio terremoto nella vita della figlia, che non ha avuto il coraggio di confessare la verità sul suo nuovo lavoro come venere presso il negozio di Conti. Per non deludere le aspettative della donna, Rosa decide di mentire alla donna e rivelarle che è stata assunta dalla redazione di Paradiso Market e inizierà a lavorare lì a dovere. Grazie all'aiuto di Roberto nella realizzazione di questo piano, Rosa intraprenderà questo nuovo percorso e presto si abituerà perfettamente. Nei precedenti episodi della telenovela Lai 1, Matilde mette in discussione la sua vita per vivere una nuova storia d'amore con Conti. Matilde aveva dubbi sulla sua vita a causa di Conti. Di fronte alle bugie smascherate sul marito Tancredi, che le aveva mentito riguardo a un incendio nel mobilificio di famiglia, la donna ha finalmente deciso di porre fine al suo matrimonio. Dopo la pausa da Milano, Matilde è tornata a Milano pronta a ricominciare con Vittorio e non direbbe che adesso è pronta a prenderlo tra le braccia del suo ex amante.